Scene da un matrimonio di Bergman con la regia di Concialoschi, fuoriscena di Fortunato Calvino, l'amica geniale tratto dal libro di Elena Ferrante con la regia di Luigi De Angelis e forse Sting. Un programma che spazia 360 gradi tra teatro, arte e musica, quello dell'edizione 2018 del Napoli Teatro Festival, presentato nel teatrino di corte di Palazzo Reale. A organizzarlo la fondazione campagna dei festival presieduta da Luigi Grispello. Anche quest'anno il festival si caratterizza per un elevato numero di spettacoli, circa 100 spettacoli, che avranno delle repliche, quindi abbiamo circa 160-170 messe in scena, in vari luoghi, sia luoghi beni culturali, sia nei teatri cittadini, ma anche nel resto della regione, nei vari capoluoghi della regione. Sul palco, per presentare gli appuntamenti inseriti nella rassegna culturale, la presidentessa del Polo Museale della Campania, Anna Imponente. Crediamo che l'offerta culturale venga rafforzata e che poi i luoghi del Polo, che sono per tradizione un museo, vengano potenziati dall'utilizzo per usi contemporanei del cortile d'onore, del giardino romantico, che diventa un luogo di incontro. La presentazione dell'evento è stata preceduta dalla notizia che il concerto del 30 luglio di Sting, all'Arena Flegrea, potesse essere inserito nel calendario del Napoli Teatro Festival. Sull'argomento è intervenuto il direttore artistico Ruggero Cappuccio. È molto semplice, la Fondazione sta esaminando una proposta che l'Arena Flegrea ha avanzato alcuni giorni fa alla Fondazione Medesima. Le procedure amministrative non sono chiuse, la Fondazione sta valutando. Io come direttore artistico non potrei che essere felice della presenza di Sting, ma se dovessimo adoperare una metafora calcistica le direi che un direttore artistico di una fondazione equivale ad un allenatore che esprime il desiderio di acquistare un calciatore per potenziare il proprio parterre tecnico, ma il calciatore lo va ad acquistare la società.